Buonasera a tutti, siamo qui in diretta sulla pagina Lezioni di Storia La Terza con la professoressa Eva Cantarella per inaugurare stasera una nuova videorubrica dal titolo Donne Mitiche, un titolo estremamente esemplificativo sul quale poi ci dirà molto la professoressa. Oggi partiamo appunto con in realtà una coppia di donne, il titolo della lezione di oggi sarà Tomiri e Artemisia, le guerriere. Brevemente una piccola introduzione sull'iniziativa e soprattutto sulla professoressa, anche se in quel caso dovrei parlare a lungo. Donne Mitiche, appunto questa nuova videorubrica incentrata su quelle figure femminili che nel mondo antico tra il mito e l'età storica hanno compiuto azioni e imprese eccezionali e così non soltanto hanno vinto il tempo giungendo nella memoria fino a noi, ma hanno soprattutto sconfitto già all'epoca i stereotipi di genere e quindi possono insegnarci molto anche oggi. Sarà appunto questo un appuntamento che si terrà ogni due settimane, sempre il giovedì, sempre qui sulla pagina alle ore 19. A illustrarci queste figure femminili sarà appunto Eva Cantarella, studiosa del mondo antico di fama internazionale, si occupa di storia del diritto, in particolar modo di diritto greco antico e sul tema del femminile ha scritto veramente moltissimo, io citerò soltanto due titoli che rappresentano veramente dei punti di riferimento per gli studi, questo che ho anch'io, Eva Cantarella all'ambiguo malanno, in questo caso in un'edizione vecchia di Enaudi e ora ripubblicato da Feltrinelli, ma anche Gli inganni di Pandora, sempre pubblicato dall'editore Feltrinelli. Due testi che trattano proprio della condizione femminile fra la Grecia e Roma e soprattutto ricercano nel mondo antico, come fa sempre la professoressa Cantarella, le radici del presente, in particolar modo di quegli stereotipi che tuttora pesano come macigni ancora il nostro presente. Bellissima è la prefazione al libro L'ambiguo malanno in cui Eva Cantarella ripercorre le conquiste anche degli ultimi 50 anni per le donne, indicando proprio che questo è un percorso che può tornare anche all'indietro, è un percorso non dato per certo e quindi è importante continuare a riflettere sugli stereotipi di genere e noi lo faremo oggi, da oggi in poi, ogni due settimane, trattando di donne del mondo antico, queste donne mitiche. E anzi, a tal proposito, non rubo altro tempo e rompiamo subito il ghiaccio, do subito la parola ad Eva, per la prima domanda che le porrò e le rivolgerò, chiedendole proprio questo, di spiegare questo titolo, donne mitiche, quindi chi sono queste donne, perché sono mitiche e con quale criterio sono state scelte. A te la parola Eva. Grazie Alessia, grazie prima di tutto di questa gentilissima e meritata introduzione, ti ringrazio molto. Veniamo subito alla tua domanda. Chi sono queste donne mitiche? Queste donne mitiche sono di due tipi diversi, quelle delle quali parleremo nel corso di questa nostra serie, diciamo, perché alcune sono mitiche nel senso tecnico del termine, appartengono al mito greco, quindi sono personaggi immaginari mai esistiti, sappiamo benissimo tutti tutto questo. Altre sono mitiche, si possono chiamare mitiche usando un linguaggio in valso, soprattutto nel gergo giovanile, è mitico, no? Mitico vuol dire qualcosa di assolutamente straordinario, speciale, un personaggio veramente speciale. Ecco, abbiamo inserito donne del primo tipo e donne del secondo tipo, donne mitiche nel senso tecnico e donne mitiche quelle lì, le seconde. E partiamo dalle seconde, quelle vissute realmente, perché c'è una ragione, il mito, il mito nel senso tecnico, quindi i miti che raccontano la storia di donne, ma tutti i miti in generale hanno un rapporto con la realtà, hanno un rapporto mediato, non è che raccontino la realtà, hanno un rapporto mediato che può arrivare fino all'esattamente all'opposto della realtà e vedremo proprio i casi di questo genere. Quindi vedere prima le donne mitiche, tra virgolette, può aiutarci anche a capire poi i miti greci ai quali passeremo in una fase successiva. Le donne mitiche vissute nella storia sono due. La prima si chiama Tomiri. Tomiri, devo dire, la seconda vedremo è molto nota. Tomiri non è notissima per la verità, se non agli studiosi del mondo più orientale, ma è un personaggio importantissimo. La fonte. La fonte, come nel caso poi anche della seconda, è Erodoto. Di Erodoto, di Tomiri, Erodoto parla nel primo libro delle sue storie e ci dice che Tomiri era una regina. Era la regina dei Massaggetti. Massaggetti era una popolazione che viveva all'Oriente, ai confini fra l'Europa e l'Asia. Ho letto, e spero che sia giusto, che più o meno coincide con l'attuale Kazakistan. E lei era la regina di questi Massaggetti che governava con grande saggezza. Aveva preso il potere alla morte del marito. Essendo una donna ricca, potente, essendo regina dei Massaggetti per di più bella e anche intelligente, come scopriremo poi, aveva molti pretendenti, fra i quali niente di meno che Ciro, Ciro il Grande, Ciro II. Ciro II che, in verità, sembrava attratto, sembrava a lei giustamente, più attratto che dalla sua persona, dalla possibilità di governare i Massaggetti. Comunque Ciro manda un'ambasceria, come si faceva ai suoi tempi, per chiederla in moglie. Lei non ci pensa proprio perché sa benissimo, è convinta e ha ragione, che lui voglia espandersi naturalmente, continuare la sua politica espansionistica. Rifiuta. Ma Ciro, non ne importa assolutamente niente di questo rifiuto, comincia a prepararsi per la spedizione, per andare a conquistare i Massaggetti. Comincia a costruire ponti di barche per far salare il suo esercito. Tomini gli manda un primo messaggio molto di pace, poi ci dice, ma facciamo una cosa, restiamo ognuno dalla sua parte, ognuno comanda i suoi. Quello non risponde assolutamente, parte veramente, inizia massa avendo attraversato i fiumi, è la guerra. E al primo scontro che cosa succede? Succede che nonostante le cose si mettessero abbastanza bene per i Massaggetti, purtroppo per un inganno, che non ho il tempo di raccontare adesso, ma insomma riesco, ingannano il figlio di Tomiri, Spargapise si chiama, e lo fanno prigioniero, Ciro lo fa prigioniero. Tomiri manda un messaggio a un certo punto, e io voglio leggervi questo messaggio, sono poche righe, perché vi dà un'idea di che cos'è questa donna. dice, Ciro, insaziabile di sangue, non insuperbirti se hai vinto mio figlio, non con le armi, ma con un farmaco ingannevole, cioè con il vino, e ascoltami, restituiscimi mio figlio vivo, e te ne andrai da questa terra impunito, ma se non lo farai, giuro per il sole, signore dei Massaggetti, che se sei insaziabile di sangue, io ti sazierò. Ricordatevi queste parole. Già con questo avete capito il carattere della signora. Ciro, naturalmente, assolutamente non libera il figlio, ma consente, quando questo gli avevano legato i polsi, chiede che gli vengano liberati, gli taglia le corde, e questo da persona, un soldato si suicida, può di non cadere prigioniero. E a questo punto che cosa succede? Tomiri parte per la guerra, per una guerra che Erodoto descrive in un modo impressionante, parte, parla anche qui queste, Erodoto dice, questa, arrivano alla battaglia finale, queste, di quante furono combattute dai barbari, io ritengo sia stata la guerra più violenta. Poi, dopo una lunga distrazione, nel suo corso i persiani furono decimati, e Ciro cadde, dopo aver regnato 29 anni. Tomiri è la donna che vince e uccide Ciro, il grande. Però, naturalmente, non le bastava. Naturalmente, date come era fatta lei, aveva fatto una promessa a Ciro, gli aveva detto, se tu sei insaziabile di sangue, ricordati che io ti sazierò. E a questo punto, al termine della battaglia, da ordine ai suoi soldati di cercare il cadavere di Ciro, trova la testa, la decapita, e la immerge in un otre pieno, pieno di sangue, per vendetta, naturalmente, nei confronti del figlio. Adesso, ecco, a tal proposito, vediamo qui un quadro di Mattia Preti, che ha amato molto ritrarre Tomiri. Però, questo è un ritratto molto particolare, perché, insomma, vediamo proprio la regina, appena tornata dalla guerra, ancora, diciamo, l'elmo, praticamente, anche il diadema, la corona, che immerge, ecco, come dicevi tu, la testa di Ciro nell'otre di sangue, nell'otre colma di sangue. Quindi, vediamo proprio la scena, perfettamente dipinta, come la descrive Erodoto. Sì. Esatto. Erodoto conclude con parole, chiaramente, di ammirazione per questa donna. Quindi, ok, diciamo, una figura ammirata da Erodoto. Di Erodoto parleremo poi dopo. Sì. E la seconda, dicevi tu, Artemisia, un po' più conosciuta, un po' più conosciuta, una figura, appunto, sì, abbastanza famosa già nell'antichità, perché sappiamo che, e questo è un fatto molto importante, una sua statua si trovava a Sparta, e, appunto, sembrerebbe un dato, diciamo, così scontato per una donna che ebbe fama nell'antico, però bisogna ricordare che, soprattutto nel mondo greco, non era, appunto, assolutamente scontato che una donna venisse ritratta pubblicamente in immagini e in statue. Quindi, un dato molto importante, quello di Artemisia, presente, diciamo, nel suo ricordo, con la sua statua a Sparta. Quindi, chi era questa Artemisia, la seconda donna di cui parliamo oggi? La seconda donna di cui parliamo oggi è un personaggio altrettanto, se vogliamo, storicamente per noi, per noi, per la nostra storia occidentale più importante di quella di Tomiri. Interessantissimo anche questo. Artemisia, cominciamo col dire, era anche lei una regina, regina di Alicarnasso, regina di Alicarnasso, attuale Bodrum, in Turchia. Anche lei era regina, aveva preso il comando, uso la parola regina, anche se non sarebbe tanto usata, ma usiamola genericamente adesso, quando si parla di queste, questa poi, Alicarnasso, era una colonia greca, in oriente, sotto il dominio dei persiani, quindi comunque, lei governava la città. governava la città, siamo ecco, Artemisia è successiva, perché Tomiri vive nel VI secolo a.C., qui siamo nel V secolo a.C., e lei si trova a vivere nel momento della Seconda Guerra Persiana. Nel 480, nel 490, come sapete, a Maratona, i persiani erano stati sconfitti, nel 480, non con Ciro, ma con Cerse, attaccano, e sono arrivati addirittura ad Atene. Le forze di terra dei persiani sono infinitamente più grandi di quelle dei greci, e questa è una cosa molto interessante, perché Cerse non sa bene se, essendo arrivato ad Atene, gli conviene, avrebbe voglia di ingaggiarsi anche in una battaglia navale con i greci, e chiede un consiglio. tutti i suoi consiglieri gli dicono devi attaccare, Artemisia è l'unica che gli dice di no, e gli dice non lo devi fare, perché per impermare i greci sono mille volte più forti di te, quindi, e una sconfitta in mare sarebbe la sine poi per te, per tutto il tuo esercito. Lui, nonostante la ammiri molto, ascolta il consiglio degli altri, e attacca la battaglia di Salamina nel 480, come sapete praticamente la vittoria, la vittoria di fatto già ormai la guerra è vinta a quel punto dei persiani. Artemisia, nonostante avesse consegnato, va a combattere, comanda una a cinque navi, lei è al comando di una delle cinque, succede anche una cosa stranissima, perché a un certo punto lei viene inseguita da una nave greca, perché lei è alleata naturalmente dei persiani, non sapendo come fare, non potendo sfuggire in altro modo, che cosa fa? Sperona quella nave e la affonda. A questo punto la nave, un'altra nave greca che la inseguiva pensa che la sua nave sia un'alleata dei persiani o un'alleata dei persiani e allora smette di inseguirla. Quindi lei si salva, salva la sua nave e salva i suoi soldati. Erodoto fa, vabbè, me lasciamo perdere. Erodoto dice, ma chi l'ha fatto perché magari l'era antipatico il comandante? Comunque questa è la cosa che le fa conquistare l'incondizionata, vede il resto, Sersi aveva già avuto la prova, aveva praticamente indovinato cosa sarebbe successo, non indovinato, ma capito cosa sarebbe successo a Salamida. A questo punto lei diventa la consigliera più importante, non solo, di Sersi, ma di tutta la famiglia dei persiani. Questa è quest'altra donna, è quest'altra donna che chiaramente Erodoto ammira a tal punto che Plutarco anni dopo gli dice ha dedicato più spazio a lei che non ha tutta la battaglia di Salamina. Esatto, a proposito di battaglia di Salamina abbiamo qui un'altra immagine, un altro dipinto del 1868 di questo pittore Kaulbach che dipinge la battaglia di Salamina. Si vede una battaglia navale e particolare il fatto che la figura centrale illuminata, quella che tende l'arco, quella donna è proprio Artemisia, la vediamo proprio lì al centro la vediamo al comando di una nave. Perfetto, abbiamo anche lo zoom, eccola qui. Quindi anche lei vestita di tutto punto, panneggiata al comando della sua nave che tende l'arco illuminata. Quindi diciamo da Erodoto in poi il suo ricordo non si è perso e nel quadro che si chiama proprio la battaglia di Salamina è la figura centrale illuminata. A proposito proprio di Erodoto come te anch'io ho letto il testo e sono stata particolarmente colpita da un passaggio in cui ecco come dicevi tu si viene a sapere ad Atene che Artemisia ha speronato una nave e Erodoto racconta che ad Atene avevano messo addirittura un premio di 10.000 dracne quindi veramente un sacco di soldi a chiunque avesse catturato Artemisia viva perché dice Erodoto ad Atene era intollerabile sapere che una donna stesse combattendo appunto contro la città contro la polis contro dei uomini quindi questo magari può essere l'argancio per la mia seconda domanda cioè quanto è rilevante il fatto che queste due donne siano orientali e non ad esempio Atenesi quindi passiamo al tema della condizione femminile nel mondo antico qual era la condizione femminile delle donne orientali e qual è la condizione femminile delle donne Atenesi se addirittura ad Atene mettono un premio sulla testa di Artemisia perché ritenevano questo fatto sconvolgente certo beh la condizione delle donne orientali era molto diversa da quella delle donne greche però vorrei dire una cosa attenzione già lo capiamo dalle due storie che abbiamo raccontate naturalmente noi non possiamo generalizzare perché qui si parla di due donne ai livelli più alti del potere però è chiaro che in un posto in un continente addirittura nel quale delle donne possono governare e governano come fanno questa è molto facile supporre che la condizione femminile sia diversa da quella che è la condizione atenese poi abbiamo anche altri elementi per confermare questa cosa era certamente molto diversa da quella atenese quindi queste storie non rappresentano minimamente la realtà o meglio io direi la rappresentano per opposizione rappresentano il peggio allora per capire perché la rappresentano per opposizione dobbiamo anche dire un momento come stavano le povere donne atenese perché questa è una cosa che non si dice abbastanza non si insiste su questo secondo me con abbastanza forza perché noi abbiamo una quantità di debiti incredibili nei confronti del mondo greco non sto a dirli li sappiamo tutti diciamo sempre che le nostre radici con un po' di etnocentrismo diciamo che affondano lì affondano in gran parte lì ma anche i greci avevano dei debiti verso l'Oriente comunque non c'è dubbio che i nostri debiti verso la Grecia siano assolutamente enormi però noi ai greci dobbiamo la starei per dire l'invenzione delle discriminazioni di genere cioè i greci trattavano erano di una misoginia veramente difficile da descrivere erano misogini avevano paura tra l'altro delle donne una delle ragioni era la paura la paura dell'invidia della maternità e tutto quanto erano misogini sia a livello ideologico basta ricordare la storia della prima donna Pandora non sto a raccontarla non abbiamo il tempo sarebbe divertente ma eh beh Pandora la cosiddetta Eva Greca è molto peggio cioè la Eva Greca in fondo nasce per fare la compagna di un uomo subalterna ma compagna e invece lei nasce per punire l'umanità e se uno dice quando parla alla fine della descrizione di Pandora dice e da questo momento gli uomini cominciarono a conoscere l'infelicità e la descrive come un dollo samecano su un inganno al quale non si sfugge perché è bella ma i guai che fa la storia della scatola di Pandora la sappiamo tutti a livello ideologico a livello che l'organizzazione sociale e politica io mi limito a dire vabbè questo è allora cominciamo col dire che non oreditavano dal padre quindi non avevano un patrimonio e non l'hanno mai durante la loro vita vengono promesse dai genitori al padre quando hanno 4-5 anni a un marito quando hanno 12 si sposano la loro unica funzione è riprodurre i figli vita sociale non ne hanno hanno naturalmente le cerimonie religiose i funerali occasioni di questo genere ma non hanno vita sociale con i mariti non vanno i simposi con i mariti per esempio perché la donna per bene stanno a casa io mi limito a dirvi citarvi De Mostene la donna la moglie era obbligata ovviamente una donna era obbligata nella corso della sua vita ad avere rapporti sessuali con un solo uomo prima del matrimonio o niente poi col marito e poi se rimaneva vedova di nuovo o niente perché doveva di sposarsi i mariti questo è in orazione non demostenica pseudo demostenica la contro nera lui dice gli uomini hanno ognuno ha tre donne una damor paedone parocto gnesion per procurare figli legittimi una pallachè una concubina testusomatus a therapeas per la cura quotidiana del corpo cioè per avere rapporti quotidiani aggiungo prima di andare avanti alla terza donna che le concubine vivevano spesso in casa insieme alle mogli molti uomini tenevano le mogli in casa con la concubina in casa e anche i figli delle concubine e poi demostenica aggiunge la etera l'etera era quella viene paragonata alle geese ma non lo è le geese non erano di professione queste erano prostitute che accompagnavano gli uomini nelle condizioni sociali il buon non demostenica ma pseudo demostenica di dire che il marito greco aveva anche il paescalosso cioè il suo bel ragazzo di cui di solito era molto più innamorato che non della moglie di cui non era affatto innamorato tant'è vero che l'amore fra conici si chiamava filia ho detto abbastanza avrei molto di più da dire per farmi capire che assolutamente allora che cosa sono quelle donne le donne orientali sono esattamente l'opposto quello che una donna greca non deve mai essere no? e ecco non a caso tu hai citato hai citato il fatto che loro conoscevano gli attenesi conoscevano molto bene Artemisia per forza aveva combattuto eccetera eccetera poi torniamo sulla statua beh ci sono dei riferimenti in Aristofane due riferimenti nel corso dei quali vi ricordate quando l'ecclesia Zuse le donne conquistano l'acropoli il danaro pubblico vogliono va bene vogliono comandare la solita storia della guerra dei sessi il rifiuto dei rapporti sessuali il coro dei vecchi attenesi che rappresentano i maratoneti dice dobbiamo fare qualche cosa altrimenti queste si mettono a fare come Artemisia che addirittura ci ha combattuto Artemisia è l'orrore assolutamente è veramente tutto quello che una donna non deve si descrive proprio Artemisia e lo stesso nelle tesemoforie azzuse per Aristofane tra l'altro siamo in un momento bruttissimo per Atene nel 411 si capiva già che le cose si mettevano molto male e quindi le donne erano considerate Aristotele sfoga tutto questo comicamente diciamo in questa tragedia la traduce in questa cosa comica e lì c'è un ipide che le donne vorrebbero uccidere perché ritengono che le abbia trattate male parlando di donne come fedra prostitute eccetera eccetera si camuffa riesce a entrare a un certo punto è travestito da mezzana e un vigile gli chiede chi sei e il primo nome che gli viene in mente il vigile è Artemisia cioè voi capite Artemisia che cosa è Artemisia è anche si parla anche lì delle e poi dice anche a proposito questo era nella nella famiglia precedente e poi quando vanno a cavallo lasciamo pese ricordatevi cosa facevano le amazzoni quindi quelle donne erano l'opposto però vorrei dire una parola sulla cosa molto interessante che tu hai detto a Sparta c'è una statua la statua come hai detto tu è assolutamente inconsueta diciamo nel mondo greco a Sparta però ce ne sono due ce n'è anche una di cinisca ecco ma perché cinisca cinisca è l'unica donna che ha vinto le olimpiade con un trucco perché ha vinto una gara dei carri e la regola voleva che il premio venisse dato al proprietario dei cavalli non al guidatore lei era proprietaria e quindi riesce a vincere e c'è una statua anche c'è ma si potrebbe pensare che a Sparta fanno una innalzano una statua ad Artemisia perché a Sparta le donne erano diversamente considerate però qui io non credo che possa essere questo perché in realtà questo mito delle donne spartane è vero erano diversamente considerate ma erano anche loro in modo diverso sottomesse non lo possiamo affrontare comunque Artemisia ci pone una serie di problemi incredibili ed è un personaggio veramente fantastico io direi che con questo abbiamo parlato di due donne veramente mitiche no? Mitiche memorabili tra l'altro appunto mi rivolgo a chi ci sta seguendo in diretta potete lasciare le domande nei commenti e alla fine ne pescheremo uno o due insomma da rivolgere alla professoressa Cantarella tra l'altro appunto proprio quello che dicevi tu sulla tornando un attimo indietro sulla pederastia cioè sul fatto che gli uomini avessero anche dei ragazzini con cui intrattenere delle relazioni pure si ricollega come spieghi tra l'altro benissimo tu negli inganni di Pandora a questo stereotipo dell'inferiorità anche biologica della donna quindi l'amore con un uomo era diciamo di livello più alto rispetto all'amore con una donna che serviva esclusivamente a procreare figli per la città per la polis era talmente più alto di livello che la funzione e questo lo dice Platone la funzione della pederastia era paideutica perché c'era un rapporto sessuale certamente e c'era basta leggere le liriche per vedere come erano innamorati di questi ragazzini come ne parlavano però la funzione fondamentale era paideutica perché la paideia del ragazzo greco era affidata le donne ovviamente non potevano insegnare niente e la maternità a differenza che a Sparta non era socialmente una donna a Sparta una donna che avesse avuto dei figli era socialmente considerata un po' più importante diciamo nonostante anche lì ci fossero dei problemi e invece ad Atene neanche quello assolutamente quindi proprio veramente ecco misoginia e poi non dimentichiamo che il buon Aristotele alla fine ha teorizzato la sua già lo ricevono da tempo che era inferiore ma lui la teorizza e la giustifica del degenerazione animalium proprio in modo contologicamente il ruolo inferiore della donna nella procreazione e poi non dimentichiamoci mai la cosa più grave l'ha detta lui Aristotele è uno dei mi spiace dirlo è una delle persone che ha fatto più danni alle donne per millenni noi povere donne non abbiamo il logos che è la grande intelligenza abbiamo la Metis che va bene per carità a Ulisse va molto bene ma lui ha anche il logos però invece noi abbiamo solo il logos le donne sono più stupide ma infatti proprio a tal proposito è ancora e torniamo alla diciamo a quello appunto che avevamo fatto all'inizio su Erodoto è ancora più significativo allora il fatto che Erodoto un uomo descrivendo queste donne non è che lo lascia trapelare ma lo dice proprio esplicitamente io le ammiro io sono veramente ammirato da queste due donne quindi ti chiedo perché diciamo qual è la differenza qual è il plus che ha Erodoto insomma è un caso che ad ammirarle sia proprio un uomo anche lui proveniente dalla realtà micrasiatica cioè comunque originario di Alicarnasso certo anche questa è una bella domanda adesso dunque io direi che non solo non è un caso ma che solo uno come lui poteva descrivere le donne così perché attenzione perché attenzione lui non descrive solamente le donne diciamo orientali tra l'altro mira lo dice ma tra l'altro per Semiramide lui è un grande ammiratore di Semiramide dice e poi questa Nitocri che era un'altra regina un'altra regina che aveva fatto lui racconta un aneddoto che aveva quando era morta aveva a me scritto sulla ha fatto scrivere sulla sua tomba qui ci sono un sacco c'è tutto il tesoro solo un altro re che avrà bisogno disperatamente di danaro lo può aprire altrimenti male non gli andrà bene questa cosa e Dario lo apre perché a un certo punto voleva i soldi e dentro non c'erano soldi ma solamente la scritta se tu non fossi stato ignobile non avresti fatto questa cosa non avresti anche in Italia e lui e lui finisce anche lì con grande ammirazione per queste donne lui le ammira profondamente però ecco dicevo perché lui le conosce anche molto bene conosce molto bene l'Arienta perché sappiamo benissimo che a vent'anni è partito e ha percorso veramente tutto il mondo all'est ovest arrivato dovunque fino in Egitto conosceva assolutamente ma conosce molto bene anche la Grecia perché quando ha 40 anni Erodoto lascia Alicarnasso e si stabilisce ad Atene dove gli va anche molto bene perché entra nel circolo di Pericle quindi conosce l'Atene quella che una volta si chiamava l'Atene del Miracolo si trova benissimo ad Atene Pericle lo ama molto l'incarico lo manda a fondare la colonia di Turi dove muore e in suolto uno vuole che si scriva che lui è morto che lui è morto quindi questo per dire che lui conosce donne di tutti i tipi e costumi di tutti i tipi e quindi allora ammira quelle donne ma ammira altrettanto voglio dire non è i greci consideravano malissimo le donne diverse dalle loro ma lui non considera le donne greche inferiori a quelle che ha descritto perché lui questa è la cosa più importante viene chiamato il padre della storia ma è il primo vero grande antropologo ed ha delle descrizioni ci sono alcune descrizioni di erodoto di costumi sessuali per esempio quando parla della Libia parla di mi pare siano i nasamoni che questi che ecco sono i nasamoni i nasamoni sono quelli ogni volta che una donna ha un rapporto sessuale si infila un braccialetto alla caviglia non è più un braccialetto una catena al bra alla caviglia e le donne tanti più una donna quanti più braccialetti chiamiamoli così la donna ha tanto più estimata e ce n'è un altro sono i macchi mi pare che sono così promiscui che non si sa assolutamente chi siano i padri sapete come fanno a riconoscere i padri quando il bambino ha tre anni tutti gli uomini si incontrano e decidono che il padre è quello al quale il bambino assomiglia di più Erodoto racconta una serie di queste storie incredibili le avessero raccontate un greco chissà cosa avrebbe detto Erodoto non fa mai un commento è il più grande è veramente un grande e quindi ecco volevo per dire certamente solo lui poteva descrivere con questa ammirazione le donne ma descrive le donne di tutti i tipi esattamente con la stessa con lo sguardo dell'antropologo io direi che lui io potrei potremmo dire che non so lui era come il primo cittadino del mondo veramente è stato io l'ho sempre amato più non che non lo ami come storico per carità ma Erodoto antropologo è una cosa lo dico a tutti leggetelo se non l'avete letto è veramente è una cosa meravigliosa ed ecco cosa porta anche viaggiare molto conoscere tante culture e come dici tu non giudicare aprire la mente e domanda secca finale per poi lasciare spazio perché stanno arrivando delle domande anche nei commenti abbiamo aperto anzi in realtà anticipato questa prima puntata con un piccolo testo che si apriva con la domanda le donne sanno fare la guerra secondo Erodoto sì allora a conclusione di questa nostra chiacchierata la domanda secca è sulla base delle storie di Tomi e Artemisi allora possiamo dire che le donne la sanno fare la guerra ma le donne la sanno fare certamente la guerra è come dire come l'altra cosa che non sopporto le donne non sono competitive ma non è affatto vero siamo competitive anche noi e così anche il nostro interno le donne non fanno fare la guerra ma la storia è piena ne parleremo ancora spero di questo argomento ma certamente che le donne la storia l'ha dimostrato e la sanno fare certo e tra l'altro adesso passo la parola diciamo uso la mia voce per dare voce al pubblico abbiamo una domanda da Claudia Scaiola che dice avrei una domanda per la professoressa Ipazia rientra nella valorizzazione delle donne orientali? Ipazia diventano della valorizzazione delle donne orientali no io direi che non la vedo non l'ho mai non l'ho mai vista in questo modo no vorrei sapere mi piacerebbe sentire perché chi ha fatto la domanda? allora una nostra spettatrice che si chiama Claudia Scaiola sì io direi di no che non rientra non rientra nella valorizzazione delle donne orientali no non vedo proprio un po' e allora alternativa Giulia Broletti invece chiede Aspasia aveva un ruolo pubblico come terra di Pericle è un'altra figura molto interessante quella di Aspasia allora Aspasia Aspasia no è un ruolo pubblico povera donna no Aspasia però Aspasia vedi caso vedi caso Aspasia Socrate dice ne sa più di me in tante cose no è una donna colta non a caso viene viene da una colonia viene da una colonia in Asia minore quindi a contatto con un mondo nel quale le donne probabilmente come abbiamo detto prima no non solamente le governanti ma tutte le donne erano più più aperte più coltivate diverse da quelle ecco maglia e incoglie però perché tra l'altro oltre ad essere considerata io ancora adesso sento continuamente dire ma era una prostituta non solo viene sottoposta a processo ma tra l'altro viene questa è una cosa singolare sapete che Pericle perché non la Pericle non l'ha potuta sposare perché aveva fatto lui un decreto in quel senso Pericle nel 450 fa un decreto nel quale divieta di sposare le donne straniere o meglio il decreto stabilisce che mentre fino a quel momento gli Atenesi non davano mai la cittadinanza a nessuno a differenza di altri ma non importa non entriamo in questo prima aspettava a chi nasceva da padre Atenese a seguito del decreto di Pericle è cittadino Atenese che è exan poter nastong e gonotus è nato da tutte e due quindi i figli che poi aveva non potevano essere figli legittimi è una cosa molto interessante questa perché che l'abbia fatta soprattutto adesso non più tanto ma qualche anno fa si parlava tanto delle leggi a persona ma Pericle certamente non la fece ma lo ricevo per dire che la povera Spasia non fu certamente avvantaggiata dalla sua cultura è stata trattata male da tutti tranne che da Pericle che come sapete tutti la baciava sempre prima di andare sulla Gorà cosa che sconvolgeva i buoni Atenesi e allora per chiudere perché veramente il tempo è volato come spesso succede in chiusura diciamo reclamano consigli bibliografici in particolar modo Deborah Perra chiede buonasera vorrei chiedere su quali testi sarebbe possibile approfondire la biografia di queste donne incredibili di Tomiri e Artemisia grazie va bene questa io direi che sulla deve leggere Rodoto fondamentalmente fondamentalmente allora devo dire di Tomiri io credo non sono sicura non ho cercato questa cosa credo non ho mai visto niente di Artemisia se ne si trovano delle cose di passaggio io credo che 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 bisognerebbe andare a cercare probabilmente fra studiosi dell'Oriente più che nella nostra tradizione no più studiosi io io tra gli studiosi del mondo greco ecco non ho presente studi specifici sull'argomento ci saranno senz'altro fra gli orientalisti che però io non so posso suggerire perché non li conosco sì tra l'altro su Artemisia è nato uno studio proprio a partire da quel passo di Aristofane che dicevi tu in cui subito dopo Aristofane accenna alle Amazzoni e mi ricordo appunto è stato fatto uno studio su Artemisia Amazzo nel senso di donna diciamo che assomiglia per carattere un po' alle Amazzoni ma su di lei come per come sulla Bibbia no informazioni non c'è non non me ne risultano leggiamo Erodoto che ne fa un ritratto anche molto ampio quindi c'è da da leggere in Erodoto molto di più di quello che abbiamo potuto dire certo quindi giustamente leggo Erodoto rimandiamo ad Erodoto bene allora siamo siamo in chiusura ricordo che ci vedremo sempre qui su questa pagina quindi lezioni di storia alla terza tra due giovedì quindi il 27 sempre alle 19 sempre con Eva Cantarella Eva che dici vogliamo anticipare di chi parleremo o li lasciamo in suspense? Diciamoli che parliamo ancora di una donna mitica tra virgolette una donna reale interessante e della quale mi fa piacere parleremo mi fa piacere che ne parleremo perché è molto poco conosciuta ed è una donna veramente singolare diversa da quelle non è è anche lei una combattente ma molto diversa come carattere la sua vita la sua storia tutto quanto molto diverso e molto interessante poi passeremo al mito greco vero ok io lascio un altro indizio qualcuno l'ha indovinata nei commenti quindi caccia al tesoro andate a cercare tra i commenti della diretta è stata nominata quindi poi vediamo quella di cui parleremo quella di cui parleremo è il 27 sì come hanno fatto a indovinare è stato uno dei primi commenti uno dei primi commenti però c'è stato chi l'ha indovinata insomma ha azzardato l'ipotesi di una prossima puntata su questa figura e ha indovinato però per il resto per ora lasciamo la sorpresa va bene io ringrazio tantissimo Eva Cantarella veramente come dicono anche gli stessi commenti potremmo stare qui ore a parlare però il tempo stringe veramente grazie mille per le risposte illuminanti grazie a tutti quelli che ci hanno seguito indifferita e niente ci vediamo allora giovedì 27 sempre alle 19 sempre qui ciao Eva grazie grazie a tutti ciao